E' tutto pronto per la Notte dei Guerrieri, sabato sera 17 febbraio al Palasport Borsellino e Falcone di San Severo una grande, grandissima riunione di kickboxing con tanti incontri in programma e ben due titoli italiani professionisti con William Pietrantoni e Giovanni Verga che come vedete stanno rifinendo gli allenamenti con il sindaco, Francesco Miglio Sindaco, tutto pronto? Sì, Giovanni e William sono pronti, sono aggasati per darci questa soddisfazione, portare il titolo italiano di kickboxing a San Severo in nome della nostra tradizione pugilistica gloriosa. Vi aspettiamo tutti, sabato si comincia alle ore 20 e 30 al Palasport, passeremo dei bei momenti insieme sarà una riunione esaltante di sport, di amicizia e di tanto tifo per William e Giovanni. Forza Giovanni, forza William. Giovanni sei allenato, sei in forma? Sì, dai, è abbastanza carico. Ce la faremo? Speriamo. William tu? Prontissimo. I vostri avversari come sono? Sempre rispetto per l'avversario, sono in gamba comunque, siamo stati selezionati dalla federazione per fare un titolo quindi sono forti. Da rispettare? Sì, come ha detto il mio maestro, rispetto ma fiducia nel lavoro fatto. Ed allora a tutti sabato sera ad incitare i nostri ragazzi al Palasport Borsellino e Falcone di San Severo. Non c'è tempo da perdere, vado ad allenare Giovanni.